5-6 Viola Viola Ascolta, per caso hai una segnalazione di incendio sulla tangenziale all'altezza di caduti di Amola? Sì, guarda, ti confermo, abbiamo notizia di un incidente in tangenziale con un'esplosione, ti stavo per notiziare Sì, noi abbiamo seguito un attimo la scia perché eravamo lontani, guarda, sto facendo un attimo di viabilità qui in caduti di Amola, comunque si sentono delle esplosioni Va bene, mi riesci a precisare se è in tangenziale o in autostrada che le segnalazioni sono un po' confuse? Guarda, io da sotto la vedo più in tangenziale, non è da escludersi che abbia potuto occupare l'altra carreggiata Bene, bene, già abbiamo notiziato di chi di competenza Sì, comunque notizia che si usiscono anche delle esplosioni Bene 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 Bene